e ma da qua dopo non la tiri su più e secondo me conviene andare fino a là in piano tanto il sentiero si quasi ma dopo dobbiamo scendere perché altrimenti facciamo una fatica del diavolo calma che adesso facciamo tutto se la fai andare da quella la tiriamo su leggermente di traverso allora fermi così e fermo così non ti lamentare che è andata di lusso aspetta che tiro sul davanti ma di stralusso tiro indietro sai cos'è che si sta incastrando c'era qualcosa che non me la facevo alzare fermati qua eh non ci pensare che andare giù ancora conviene è fuori la marcia si l'ho tirata fuori guarda di centrale tanto in due in tre riusciamo ho fatto un cazzo no no il fai ho visto è andata di straculo ma alla grande è mancato non riesce a prenderlo non è che sia il brillante a prendere però bravo sempre sempre io la moto la lascio andare giù se deve proprio andare si si è l'unica è l'unico problema che la doveva girare ma fai fatica così se invece la giravamo a parte che girarla c'è la fai a dargli una mano qui che la tiriamo su da questa è la moto? si si ne ha sui diritti se lo stingo non so dove prenderlo fai così vai che fa sempre prima un po' la sto tenendo come ho fatto il secondo me se la prendete uno per parte un manubrio eh ma di là non ci stai eh non riesce a starci in piedi drizzalo adesso aspetta prova così aspetta che vengo sul fermo eh vai su tu che io cerco di tenere la diritta più possibile se riesce a passare no vai su lì vai su insieme a lui e tira la sua moto no ma dopo riesco qua no vai ognuna cosa fermi tutti guarda che si prende le pedivelle che cazzo la pedivella lì si guarda chi ha il musico spera me vai ok dai no 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 ma che vado a resta staccata la moto ma col cazzo che la lascio andare guarda che se mi metti sulla marcia è meglio perché ci frena almeno si 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 adesso si che quando uno due tre vai uno due vai uno due vai guarda che adesso qua scivoliamo giù eh vedi però io per quello che ti ho detto che poi ci troviamo giù o saliamo da qua la tiris la tiriamo qui sotto e ce la facciamo vai 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 adesso arrivo dove sei scivolato tu però eh uno due fai aspetta mettere in sicurezza un secondo ma su meglio di là ma su meglio di lì secondo me Sandro perché qua scivola un momento vedi qualcosa aspetta aspetta dopo ti siedi due secondi facciamo quest'ultimo strappetto qui se la prendiamo da qua guarda che è meglio io e te no perché qua ci sono le cose che riusciamo a far leva e la tiriamo su con il davanti fino a lì poi la giriamo fuori più comodo più più comodo Sandro sei sicuro? si vai su Fabio vai su e sei bravo vieni vieni perché qua ci sono quelle due o tre piante qua diciamo attaccarci se no scivoli invece così a tirare la sua mano dal davanti gambe così si fa male no sono le costole eh sono le costole da qua da qua vai bravo così sai te gioli stravescati giovane da qua secondo me è più comodo perché la tiriamo su con il davanti e se la fai arrivare qua deve andare fuori dopo bravo ce l'hai vai ok aspetta eh che vado su un pezzo uno due vai uno due vai vai avanti adesso se la provai indietro no tiriamo sulla cosa tirano sul culo pochi piedi anche di qua mettiti seduto con la schiena diritta mettiti seduto con la schiena diritta cosa volete fare adesso adesso tirano su da qua col culo per forza io quando l'arri mi arrivo su qua uno vai 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 aspetta eh uno due vai aspetta che tiriamo sul davanti si lasciala lì ok c'è la pedivella che tiene dai ancora ok adesso è tutta sulla pedivella eh e la pedivella a cavallerti alziamo adesso così boom boom no è crocchiamo che la lascia andare giù sotto quella casetta là quando mi sono fermato era giù sotto in un angolo appoggiato la ho detto è un'altra mala questa qui non è perché po' di là la la